Cari amici, rieccoci e questa mattina si è svolto presso il Consiglio Comunale, una saletta del Consiglio Comunale di Novara, una conferenza stampa per quanto riguarda i lavori socialmente utili per i detenuti della Casa Circondariale di Novara. Mandiamo in onda adesso indicativamente quello che si è detto stamattina sulla conferenza stampa. Oltre a questo spero che questa collaborazione vada a buon fine, come sicuramente negli anni scorsi e spero che questi personaggi possano rendersi utili nella ristrutturazione di quegli edifici che ATC attualmente non può ristrutturare perché non ha i mezzi economici. Visto che abbiamo le borse lavoro, spero che in queste borse lavoro qua dei detenuti ci sia qualche detenuto che si intenda di edilizia, è una buona iniziativa, è benvenuta dalla cittadinanza anche perché così facendo riusciamo ad ottenere qualche alloggi in più per rinnovarsi. Ci vediamo alla prossima. Vorrei rimanire semplicemente quanto è stato scissitato nel comunicato stampa, che è ancora una volta, grazie alla collaborazione con ASSA e con la cittadinanza, la cittadinanza di via Scorzesta, abbiamo portato avanti un lavoro che ha molto abilmente la rilevanza sociale dei detenuti a portare. Il protocollo nei operativi è stato sottoscritto tra il comune, ASSA, la cittadinanza di via Scorzesta e la cittadinanza di via Scorzesta e la cittadinanza di via Scorzesta. Grazie. Grazie queste iniziative, questa iniziativa che ha questa promenucoala, possono sempre più essere incrementati per l'Italia. Quindi un ringraziamento non solo per me, ma per me di sostanza, ma per me di votare l'Assa e le altre istituzioni che fa presente, anche perché senza un lavoro comune di coordinamento non si potrebbe fare tante belle cose, invece, sicuramente che non sono fatte in piccola esperienza e in grande ruolo. Dico due parole anche io, grazie, scusore. Intanto, anche io, voglio ringraziare il mio ringraziamento a tutte le persone che consentono la realizzazione di questi progetti, così come anche le realizzazioni di tanti progetti che, come dire, hanno la stessa ratio e soprattutto hanno lo stesso obiettivo, la stessa impostazione, ma anche gli stessi obiettivi. E qui sono veramente, oltre a parlare di tanti della Casa di Cervano Reale, che io parlando, poi anche voglio ringraziare il direttore dell'Assa Gennoli e il nostro dottor Basile, che è la nuova gente, 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 poi magari entrano loro, o anche voi, non mi piace. E voglio soltanto dire due cose. La prima è che passa il braccio operativo del Comune di Ovale. Quindi, se qualcosa, il denio è l'ultimo, possiamo andare a scrivere, cerchiamo con l'assessore, con la signora, cerchiamo con la giunta di essere davvero efficaci, non è semplice, ma cercare di portare avanti le strategie che ci vengono, Presidente, indicate. Se le cose vanno bene, non lo sconteranno, chiaramente perché c'è una regia che ci dice esattamente che cosa sarà. Noi vogliamo essere questo, e chiaramente possiamo avere una struttura formata da tante persone, non soltanto Presidente, ma come dire, sempre più, vorremmo avere un punto di vista di un'attività, e vorremmo che sia, come dire, condiviso quello che è il nostro obiettivo, quello che è il nostro compito, cioè quello di dare ai cittadini, ai nuvaresi, in una città più pulita, più bella e più limitosa. Ci sono problemi enormi, che tutti quanti, insomma, conosciamo, perché per raggiungere questi obiettivi, insomma, magari ogni giorno c'è sempre qualche intervento che viene evidenzato e poi penso che qualche attività da fare. Però, grazie alle persone, alcune sono qui presenti quest'oggi, che insomma, in qualche modo riusciamo a realizzare i nostri obiettivi, e poi anche grazie a progetti come quelli che quest'oggi vengono presentati, perché le persone che oggi sono presentate in questo progetto poi vanno sulla stade, e quindi, come dire, sono sospesi, sono sulla stade e ci ritornano di vedere la città, più belle e più, e qui voglio soltanto essere perso, quindi sempre di più che andremo a portare avanti progetti come questi, perché sono anche, come dire, avendo la sinergia con tutto il territorio, con il mondo anche del sociale, e quindi condividendo quelli che sono i nostri obiettivi che riusciremo ad ottenere la città sempre più belle e più belle. Signora, rappresento l'ufficio distruttuale dell'esecuzione per l'Esterna, che anche noi come ufficio dell'amministrazione collabora, seppure in maniera un po' più marginale, al progetto, soprattutto nell'individuazione, nell'assimilazione di persone che hanno problemi penali. Noi appunto abbiamo una fascia di utenza molto ampia, che è quella tutta dell'edituzione penale fuori dall'istituto, che però è sempre in crescendo, quindi ha un bacino di utenza che è sempre più ampio, perché questo vi indirizzo anche dall'amministrazione di ampliare sempre più le misure, quindi necessita moltissimo di avere un supporto con l'esterno che possa avviare le persone al mondo del lavoro, al mondo dell'inserimento sociale su delle basi sane e solide, insomma, perché è un momento di transizione di conto che per me è essenziale, quindi ringraziamo infine a tutti della collaborazione, sperando che anzi i progetti possano solo aumentare in questo senso. Io sono Borgia Patrizia e rappresento il direttore che attualmente è in ferie, quindi non è potuto essere presente. Facciamo questi progetti da ormai oltre vent'anni, quindi diciamo che sono abbastanza consolidati nel tempo e nel tempo, anno dopo anno, ci siamo migliorati tutti, anche come rete, come possibilità di lavorare in maniera veramente efficace, sia con l'ASA che con il Comune. Quindi per noi, chiaramente, educatori, ma anche giustamente come direzione, questi progetti sono importantissimi perché il lavoro rientra nelle attività trattamentali più importanti per il recupero del detenito. Siamo lì per quello e quindi, anche se questi progetti ci costano comunque tanta fatica, perché la scelta delle persone, fare le osservazioni, preparare tutti i programmi di trattamento, insomma, la burocrazia è tanta dietro a questi progetti, però lo facciamo volentieri perché crediamo che sia veramente il significato del nostro lavoro. Senza il lavoro, normalmente per il detenuto, non avremmo motivo di lavorare lì dentro, o perlomeno sarebbe anche molto meno importante. Insieme a questi progetti dell'ASA, noi ci auguriamo che nei prossimi anni possano essere sempre riproposti e anche con celerità, perché a volte è normale che si possono creare dei periodi in cui non sono ancora stati approvati, perché anche lì sappiamo che la documentazione da presentare è sempre tanta e le risposte non sempre arrivano presto al momento giusto. E quindi noi ci auguriamo che nei prossimi anni questa cosa sia sempre più celere, in modo da non lasciare periodi di vuoto. Insieme a questo abbiamo le giornate che facciamo sulla tutela ambientale, sempre in collaborazione con Comune e con ASSA, che credo sia un po' il fiore all'occhiello del carcere di Novara, che forse in tutta Italia è l'istituto che maggiormente ha portato avanti questi progetti che ormai durano da tanti anni. Ogni settimana, quindi abbiamo anche implementato le uscite, ma attualmente ogni settimana facciamo uscire una squadra di 7-8 detenuti che su indicazioni appunto dell'ASSA vanno in cantiere, in giardini, insomma nel mese di luglio avremo anche tre giornate continuative in una scuola comunale, in asilo. Quindi sono progetti importantissimi perché il carcere fa parte del territorio ma deve farci parte in tutti i sensi, insomma soprattutto con l'impegno dei detenuti che in un certo senso poi restituiscono alla società qualcosa. Grazie. Solo per inquadrare la situazione, quindi il rapporto in questo momento è tra Comune, ASSA, UEPE, che è poi la casa circondariale, sostanzialmente l'ASSA è il patrone cooperativo, però nel salto di qualità e nelle istanze che diceva il Presidente, di dare continuità e riconoscere il merito di queste iniziative, evitando anche le problematiche di quali alcune normative che ci sono tra l'IGR regionale che finanzia un progetto con l'anno successivo, quest'anno ASSA si è fatta parte del dirigente, si è stimolata dall'amministrazione, anticipando, perché questo non lo vede la legge 34, il finanziamento e quindi l'approvazione del progetto, sostanzialmente andiamo in autofinanziamento per anticipare la triptistica regionale. Bravo, questo è un salto di qualità, che da un lato dice siete più dirigenti e rispondiamo alle istanze sociali del carcere, dall'altro lato dice che l'amministrazione comunale che ha stimolato questa cosa, riconosce una meritorietà anche dal lavoro svuoto, effettivamente ASSA si sta ponendo, non solo attraverso questo progetto, ma le giornate, altri protocolli, ma soprattutto poi l'applicazione della legge 34 nelle varie corne, le chilo cini e quant'altro, sta praticamente facendo un tranello di congiunzione tra delle istanze manutentive della città, una carenza di risorse da pubblica amministrazione che trova sport per interventi massicci, cioè interventi di manutenzione di posto ordinario, manca completamente con la fase di manutenzione ordinaria che in parte giova all'assertesa nel mantenimento della città, ma in parte permette l'assertesa di spaziale, citava le prime le scuole, non sarebbe esattamente istituzionalmente, visto che ASSA si dedica all'imbiancatura delle scuole, ma in carenza e in assenza di personale operativo del Comune, ASSA sta fungendo un po' da collante, cioè fa la manutenzione ordinaria della città utilizzando quelle risorse che comunque in qualche modo erano già in carico all'amministrazione, ora quella per i tenuti, ma ora nel caso dei disoccupati in carico ai servizi sociali per il massimo di sostentamento, aiuto alla vocazione e quant'altro. Sostanzialmente traduciamo quella che è l'istanza sociale del Comune, i costi sociali del Comune in lavoro per la collettività, la beneficia dell'azienda, per la prestazione dei servizi, un beneficio generale della manutenzione della città. Diciamo che la forza, al di là del livello nazionale del mondo, dal protocollo e quant'altro di questo percorso, è un po' questo, integriamo vari percorsi nelle politiche sociali per dare una manutenzione della città per la quale mancherebbero le risorse, impegnandosi anche economicamente, perché anticipare i soldi di un progetto di questo tipo è uno sforzo che va coliberato, assunto come un impegno importante da parte della nostra consiglia di amministrazione e in questo evidentemente c'è una sensibilità da parte dell'attuale amministrazione, dell'attuale consiglio di amministrazione di ASS. E' una novità sostanzialmente questa. Assente purtroppo un magistrato di sorveglianza, mi permette di portare solo il suo nome, anche se non mi ha incaricato, ma è sempre molto sensibile e dirigente. Quello che diceva lei, le grosse difficoltà potete immaginare, ci muoviamo in un ambito che da un lato vede la burocrazia della regione, ma dall'altro una struttura elefantiaca come quella della giustizia, abbiamo trovato, non dico delle scorciatorie, perché sempre e comunque si rispetta le leggi, ma una collaborazione tale per cui molti di queste difficoltà si sono smussati, il rapporto di echipe e il lavoro di echipe è molto efficiente, questo va riconosciuto che abbiamo trovato dei parte molto aperti e disponibili, diversamente sarebbe stato difficile, ecco perché in realtà queste cose, non perché sono meno capaci a costruire, semplicemente ci sono riconosciuti di numeri burocratici che rendono difficile applicare e chiudere il cerchio. Il lavoro di squadra è una sottostante che permette di realizzare gli obiettivi e nella tutela dell'ambiente e nella tutela delle problematiche sociali. Le problematiche sociali sono relative sia ai soggetti che vengono presi individuati dall'amministrazione della giustizia, presi per mano e accompagnati in un percorso di crescita professionale per poi muoversi con le proprie gambe e un percorso sociale di risposta alle esigenze della cittadinanza in vari ambiti che in un periodo di finanze pubbliche magro va individuato centesimo per centesimo azione per azione per poter ottenere dei risultati di miglioramento nella vita sociale. Fruizione degli spazi sociali, fruizione degli spazi comuni tramite soggetti che vengono portati a un arricchimento professionale utilizzando l'esperienza, le capacità dei nostri referenti, dei nostri responsabili. Grazie, grazie mille. Posso farvi una foto? Grazie mille.